Musica Omesso versamento dell'IVA è questa l'ipotesi di reato tributario che ha portato nella mattinata di oggi finanziari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila ad eseguire un sequestro di disponibilità finanziaria e beni immobili e immobili per un valore di oltre 300 mila euro a quattro persone all'epoca dei fatti nel consiglio di amministrazione dell'Aquila Calcio, società retrocessa quest'anno dalla Lega Pro alla Serie D I nomi dei quattro dirigenti della società Rosso Blu non sono stati ancora resi noti in una nota delle fiamme gialle si specifica però che gli autori della violazione sono risultati essere gli esponenti di spicco degli organi decisionali della società all'epoca della commissione del reato l'imposta sul valore aggiunto evasa è relativa all'annualità 2014 la misura cautelare appena eseguita aggiunge al termine di articolate indagini da parte dei finanziari del capologo abruzzese delegati dalla procura della Repubblica dell'Aquila a seguito di una segnalazione ricevuta dalla locale agenzia delle entrate gli investigatori hanno eseguito approfondimenti di natura fiscale ed hanno accertato, sempre stando ad una nota delle fiamme gialle che la società calcistica, dopo aver convenuto con i locali uffici finanziari una rateizzazione dell'imposta dovuta aveva versato solo le prime due rate del debito tributario omettendo il pagamento della terza entro i previsti termini così decadendo dal beneficio della dilazione i militari del nucleo di polizia tributaria hanno operato pertanto uno dei primi sequestri disposti per effetto delle modifiche introdotte con la recente riforma dei reati tributari dell'ottobre 2015 assicurando all'erario gli importi corrispondenti al mancato versamento appunto di oltre 300.000 euro è tornato oggi a riunirsi dopo la lunga pausa estiva il consiglio regionale all'ordine del giorno inizialmente oltre alla lungo elenco di interrogazioni e interpellanze una legge sull'istituzione e la riperimetrazione delle aree protette a firma del consigliere PD Alberto Balducci che però farà solo capolino in aula per poi essere ritirata e la nomina del garante dei detenuti anch'essa destinata al rinvio perché non c'è la maggioranza qualificata un po' poco tuone il consigliere di Forza Italia Mauro Febbo credo che il consiglio regionale si faccia solo perché esistono le mie interrogazioni e quelle dell'opposizione non c'è nessun punto all'ordine del giorno dopo 40 giorni, 45 giorni dalla chiusura feriale stiamo ancora alle chiacchiere di questo governo regionale e di questa maggioranza poi però su iniziativa del presidente della prima commissione Maurizio De Nicola l'ordine del giorno è stato rimpinguato con un provvedimento licenziato in mattinata dalla stessa prima commissione che prevede la creazione di un fondo costituito da un versamento di 1000 euro da parte di ciascun consigliere regionale a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto a tenere banco è però ancora la partita della sanità l'opposizione non ha dimenticato lo strappo della giunta del 29 luglio che disattendendo l'ordine del giorno sulla sanità approvato il 26 luglio in cui la maggioranza di centro-sinistra è andata sotto ha lo stesso approvato il piano di riqualificazione del sistema sanitario abruzzese nulla di anomalo spiega però al nostro microfono l'assessore Silvio Palucci che conferma a giorni il consiglio dei ministri decreterà finalmente l'uscita dal commissariamento della sanità abruzzese al primo consiglio utile dei corsi 45 giorni della delibera di giunta regionale che ha avviato la procedura il consiglio dei ministri delibererà ora dovrebbe esserci giovedì ma il punto è al primo consiglio che è stato convocato e dunque sarà convocato subito dopo dei corsi termini che la regione aveva previsto per cui tutte le cose sono andate esattamente come dovevano andare ma intanto per le opposizioni non saremmo mai usciti dal commissariamento perché a fare a costruire una bagarre demagogica il risultato è che si perde sia incredibilità da un lato ma poi non si mettono in atto i provvedimenti per uscire e dunque non sarebbe stato possibile il raggiungimento di altri tipi di obiettivi in secondo luogo bisogna dirlo chiaramente di ordine del giorno se ne fanno assolutamente tanti nel Parlamento nazionale in tutti i consigli regionali non c'è il vincolo che viene raccontato e ci assumiamo la responsabilità di volo riuscita al commissariamento loro no sono 15.000 euro i fondi raccolti per i terremotati con la giornata del jazz italiano per Amatrice che ha visto il suo evento conclusivo all'Aquila lo scorso 4 settembre con la presenza di circa 25.000 persone i fondi raccolti con la vendita di prodotti e magliette sono stati illustrati in una conferenza stampa dal coordinatore del comitato per donanze del sassessore Alfredo Moroni e dai rappresentanti di Federparchi Abruzzo CNA Confcommercio le associazioni albergatori e sapori dei parchi il comune chiederà alla regione di mantenere il contributo di 50.000 euro destinato agli eventi della perdonanza saltati poi il rispetto del lutto da destinare alla popolazione di Amatrice per quanto riguarda la cifra donata dagli Aquilani si dovrà attendere il conto di tutti i soldi raccolti nei vari bussolotti presenti nelle 20 città italiane che hanno partecipato all'evento del jazz e che saranno resi noti da Paolo Freso e detto Moroni negli obiettivi dell'amministrazione del comitato per donanza oltre a contribuire alla ricostruzione del teatro di Amatrice quello di mantenere agli studi Claudio un venturale di Amatrice che ha perso la fidanzata e la sua famiglia con il terremoto e che si è salvato soltanto saltando dalla finestra della sua stanza Claudio frequentava il conservatorio Casella dell'Aquila Io direi che è andata molto bene è stata una prima raccolta fondi noi come comitato per donanza proseguiremo assumeremo altre iniziative ci sono già degli impegni che si stanno assumendo in quella serata con delle donazioni dei singoli specifici cioè che passava attraverso il piatto di Amatriciana offerto dalla Del Verde così come la vendita delle bottiglie di vino così come dalla vendita delle magliette del GES così come dalle contribuzioni degli albergatori e degli esercenti che sono stati lì con noi abbiamo raccolto soltanto in quella serata 15.000 euro come comitato per donanza il ricavato della giornata GES potrebbe aumentare di ulteriori 12.000 euro ha sottolineato Moroni con una vena polemica se i due sponsor del 2015 dessero quanto promesso l'anno scorso e cioè si tratta di una ditta che si occupa del restauro della Basilica di San Bernardino e di un istituto di credito che devono rispettivamente 7.000 e 5.000 euro sono 12.000 euro che potrebbero essere presi ed evoluti per la ricostruzione del teatro di Amatrice oltre alla ditta del Verde che ha contribuito alla raccolta fondi mettendo a disposizione 150 kg di pasta cucinando e vendendo piatti di Amatriciana e raggiungendo la somma di 5.000 euro si sono raccolti 4.400 euro con la vendita delle magliette 1.500 con la vendita delle bottiglie di vino gli albergatori hanno inoltre devoluto il 50% dei guadagni per un totale di 900 euro mentre i commercianti hanno raggiunto la somma di 2.700 euro dando il 15% degli incassi per Amatrice rispondi 5.000 euro givegla